Un elicottero di nuova generazione a pilotaggio remoto, cioè senza personale a bordo, è il nuovo velivolo prodotto a Pisa da Leonardo. L'inviato Gabriele Flamma. Nel mondo si contano sulle dita di una mano le aziende capaci di realizzare prodotti d'avanguardia tecnologica facendo tutto improprio, dal software alla pala del rotore. Una di queste è Leonardo, ex finmeccanica, che a Pisa ha sviluppato il più avanzato elicottero a guida remota mai visto sul mercato. Pesa poco più di 200 kg, può volare per 700 km e si guida da una stazione di controllo. Entro l'anno arriverà la certificazione, poi sarà una piccola rivoluzione nelle operazioni di sorveglianza e soccorso. Dalla sorveglianza di aree colpite da calamità naturali, come terremoti, alluvioni, alla ricerca di persone scomparse. Perché un piccolo elicottero a motore piuttosto che un drone elettrico? Il drone elettrico ad oggi è molto limitato in termini di autonomia. E questa è una macchina che ha l'autonomia di 6 ore. La V-Hero, questo il nome, viene prodotto nel nuovo stabilimento Leonardo di Pisa, che da lavoro a 60 tecnici ultra specializzati rafforza la presenza del gruppo in Toscana con oltre 1800 dipendenti. Può decollare da una nave, viaggiare da solo in avanscoperta o affiancare gli elicotteri con pilota, clientela tipo, marine, militari e forze di polizia, ma non solo. Alcuni esempi, il controllo delle mandre in Australia. Ci è stato chiesto l'elicottero per questo? Ci è stato chiesto l'elicottero per questo.